Le immagini che vedete non vengono da Napoli, ma bensì da Via Learco Guerra a Mantua nella sede della Confederazione Nazionale Artigiani. Proprio qui infatti si è chiuso il corso per pizzaioli, gestito dal maestro Paolo Chicchi, chioccia di dieci allievi i quali hanno completato le loro fatiche con una gara. Da semplici appassionati disoccupati, uomini e donne hanno messo cuore e anima per imparare una nuova professione che un giorno gli potrebbe dare da vivere. Il primo giorno di corso loro facevano già la pizza, la sera riuscivano già a fare la pizza e quindi questo mi ha stimolato a dare di più. Poi in queste situazioni quando si trova il gruppo che poi ti segue diventa tutto più semplice, più facile, tanto è vero che siamo riusciti a fare delle decorazioni e delle fantasie nella farcitura che normalmente non accadono. Per la cronaca ha vinto una singolarissima pizza dolce con uva secca, prugne, limone, mandorle ed altri aromi. Un gusto che ha lasciato in stasera sorpresa ai dieci giurati lavorata da Ler Rashidi Abdel Magidi, il quale l'ha chiamata pizza. Alla grande sono andate poi le pizze di Liana Bermini, Giuseppe Bruno insieme alle altre tutte delissimo livello. Alla grande sono andate poi le pizze di Liana Bermini.